ciao ragazzi questo è un piccolo messaggio di servizio come avete non ho piccettino non ho albi a portata di mano allora giusto per vostra informazione ve lo dico prima nelle prossime due settimane sarò un po sul furio quindi comparirò forse molto meno in sui vari social e il canale sarà un attimino messo in freezer nel senso che probabilmente produrrò molto poco rispetto alla mole che normalmente faccio e anche la mole di materiale che deve uscire vi ricordo che c'è un color di d lancio siamo esterno ancora da fare eccetera eccetera e più altre idee che avevo in mente magari qualcosa riuscirò a fare ma non garantisco state due settimane un po particolari magari un domani prima o poi ve lo spiego vediamo anche come si evolvono nulla di grave ovviamente però ci tenevo ad avvisarvi che dal 6 fino al 18 diciamo sarà un pochino più missing in action abbiate pazienza mi scuso prima e niente ci rivediamo magari lì a spizziche boccone oppure magari non cambierà nulla riusci a trovare il tempo non lo so quindi metto le mani avanti e poi ci rivediamo dopo dopo queste due settimane in maniera più stabile e più funzionale ok non preoccupatevi io non chiudo baracca e borattini ma devo per forza di cose concentrarmi su altro in queste due settimane ripeto nulla di grave ma ho delle cose da fare niente baci abbracci grazie ragazzi e niente se riuscirò a incastrare troveremo una programmazione nelle prossime due settimane se no tra due settimane ci si rivede baci abbracci e alla grande